Dicono che col casco i ragazzi non ti guardano. Ah sì! Cambia vita! Sali in viaggio! Cellulite? Cellulite. Affidati seriamente a Somatoline, una specialità farmaceutica Manetti e Roberts. In ogni bustina Somatoline c'è la dose giusta, scientificamente sperimentata, per combattere seriamente la cellulite. E dose dopo dose vedi i risultati. Contro la cellulite affidati seriamente a Somatoline. In farmacia è un medicinale usare con cautela. Manetti e Roberts farmaceuti. Opel Cadetto Berlina. Più spazio all'eleganza. Siamo a Parigi, a Louvre. Mi piacerebbe avere un Leonardo, un Delatour, un Vattu, un David. Allora, comprate l'europeo di questa settimana e saranno vostri. Undici copie al minuto. Davanti, di dietro, anche a colori. Ehi, piccola, tu stai parando, giù le carte. Mita. Sì, DC1001, l'unica compatta che lavora a piano fisso. Mita. Troppo forte. A parlare ci rinuncio, ma al marzapane non resisto. Accidenti, e i denti? Ne difendo bene, con l'aiuto di Durbanz. Durbanz H12, con l'uso regolare, la lunga difesa da carie e placca. Durbanz, che denti. Per certi momenti, c'è un solo Presidente. Presidente Riccadonna. Spumante Reserva. Un viso, uno sguardo, un sorriso, un gesto, un'espressione, un atteggiamento, un cenno, un segno particolare, un movimento, il modo di presentarsi, di comunicare. A Drive-In, ogni gusto ha il suo gusto. Drive-In, domenica alle 20.30, su Italia 1.